Sono stati numerosi i partecipanti nella giornata di giovedì 11 aprile alla manifestazione svoltasi in piazza Matteotti, in occasione dello sciopero proclamato da CGL e UIL nei settori privati. E, emersa una stensione dal lavoro significativa con picchi del 90% in grado di testimoniare l'importanza che questa azione di lotta riveste per le lavoratrici e i lavoratori dei nostri territori. Durante la manifestazione... Abbonati a soli 9,90€ all'anno! Beba Steck House, a Ornavasso!